Vento sei pronto? Sì Sei pronto? Carico per la palestra? Sì Dovete sapere che Tomas è il fidanzato di Giulia Perché c'è anche Giulia Delellis Qui con noi in resort Praticamente dall'Italia ci siamo solo io e lei E con i nostri rispettivi fidanzati mariti Quindi lei e Andrea Che sarebbe il suo fidanzato Io non li conoscevo prima, li ho conosciuti qua E sono tutti e due molto alla mano, molto simpatici, carini E Tomas ha fatto super amicizia con Andrea Praticamente che è diventato il suo personal trainer Non che dietologo Quindi praticamente Che cosa ti ha detto? No, non lo faccio io Quello se tu sia vero Dietologo? Invece una cosa che mi ha insegnato abbastanza È il dietologo Fare il dietologo Ah ok Non è dietologo diciamolo Però sta molto attento all'alimentazione E quindi stamattina tomarsi rifiutato Scusa Dillo tu Sì stamattina non ho bevuto latte come ogni mattina Ma ho bevuto tè No sai cos'è bello? Che quando glielo dico io di bere più acqua Di bere tè Non mi ascolta Appena glielo dice un ragazzo che ha incontrato ieri Lo ascolta proprio alla lettera E quindi gli ho portato il latte Stamattina gli fa No Andrea mi ha detto che io Non devo più bere latte quindi no E poi a pranzo Gli ho preso tipo io Un due bocconcini fritti No Andrea mi ha detto di no E poi non li ha mangiati Mi ha mangiato però Il tono inferi Quello mangiato Poi in barca In barca Quando siamo tornati su dal giro Con i pesci Con le tartarughe Ci hanno offerto tipo dei dolcetti Eccetera E Tomas ha chiesto ad Andrea Posso mangiarli? E Andrea gli fa Eh no E Tomas Ma sei culo? Eh ma No non sei ancora pieno Della colazione E Tomas pensava Ma sinceramente no Poi gli ha chiesto tre volte La risposta è sempre stata no Alla fine non li ha mangiati Però Tomas sperava In una risposta positiva Sì però stamattina Ti dico subito Ok poi l'azione è stata piena Ho sbagliato Perché ho preso Tre croissant Porca miseria E quello dovevo Eh no No Domani tre fette biscottate Integrali Sì sì Tutte integrali Un po' di marmellata Ma poca Ok quindi Continueremo la dieta Del nostro dietologo E E basta Siamo pronti per la palestra Ciao Chiamai il buggy La macchinina Chiamai Il di un buggy Sì Mentre aspettiamo il buggy Che sarebbe la macchinina Che poi sono tutte a batteria E non inquinano È molto carina questa cosa Ci piace Vi faccio il room tour A questo punto Qui c'è Tomas Ecco iniziamo il nostro room tour Ci fai vedere tu la camera? Sì io volevo Spervi una cosa Ah ok Che Mi è venuta un'idea Di prendere anch'io Questa macchinetta Per Trieste E vuoi il buggy? E vuoi andare in giro con il buggy? Maldiviano? Io andavo da casa mia A lavoro Ogni giorno Ma voi vi immaginate Tomas a Trieste Con cappello di paglia Ghirlanda di fiore Con il buggy Maldiviano Mitico pupetto E ti ritrovi senza più niente E ti ritrovi senza più niente Se solo tu il buggy La Ghirlanda E il cappello volano Allora qui ci sono le nostre valigie Niente di che In realtà Poi qui c'è questo armadio Allora questa è la stanza Vediamo un po' Tomas non sei bravo Fai vedere qua Fai così Questa è la stanza Ah ok Questa è la stanza principale La stanza principale È tutta qua È l'unica C'è il letto Ma anche il soggiorno Ah ecco Sì qui c'è un po' Una zona scrivanie Abbiamo due sedie Che non si spostano Sti pomaccini Zona guardaroba Zona guardaroba Questo è il guardaroba di Tomas Guardiamo l'armadio Molto bello devo dire Ci sono anche gli accappatoi Questo è il nome del resort Hurawalhi 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 Ok qui ci sono delle decorazioni Che già c'erano in legno Molto belle Con i delfini Con i delfini Qui c'è il minibar Abbiamo tutto incluso Il che è molto pericoloso Però siamo stati bravi Non abbiamo bevuto ancora niente Altre cosine sotto Questo invece è il mio Armadio Eccolo qua ci hanno appena regalato i cappelli rosa di Benefit ok poi qui invece c'è la postazione make up con lo specchio e qui ovviamente ho tutti i vari miei trucchi, qui ci sono invece le creme che ho portato dopo sole, cioè creme per il sole con foto di protezione dopo sole, qui ci sono vabbè smalti e poi il resto dei miei trucchi e qui invece dall'altra parte c'è il resto della stanza e qui c'è la mascherina carinissima che mi hanno regalato da Benefit e queste luci sono anche molto carine perché hanno la mappa delle Maldive su, cosa fai? Ti stai nascondendo tu? Patatone ci fai il tour del bagno? qui c'è il letto e questa invece è la parte insomma soggiorno con divanetto, poltroncina qui c'era la frutta vi ho fatto vedere con questo quadro e poi tavolo con lo champagne che ancora non abbiamo toccato ma non mancherà occasione sono sicura tv che non abbiamo mai acceso e qui fuori si esce e c'è invece il terrazzo con lo stendino questi cosi per appendere sono molto carini a forma di pesciolino lo stendino che ci mancava nell'altro resort oddio una lucertolina ciao signora lucertola ciao signora oh è andato via oh no ancora là questa lucertola la chiameremo Adriano mi sa di non so perché ma mi sa di Adriano questa lucertola mi comunicano i loro nono questo era Adriano la lucertola che è cugino di Luciano la lucertola che sta nell'altra e poi qui ci sono le insomma le sedie a sdraio che carino l'asciugamano di benefit che mi hanno regalato è stupendo e poi qui c'è tavolino altro divanetto e lì si va direttamente alla spiaggia lo vedete il mare e lì carino anche questo vaso con i pesciolini e qui c'è spiaggia il mare e lì c'è il picnic stanno ancora mangiando noi abbiamo già finito e strafinito ok e questo è quanto vi faccio vedere anche il bagno e questo il magnifico bagno il magnifico questo è il magnifico bagno e qui c'è vabbè qui c'è proprio il bagno in sé e questo è il resto due hanno bussato? hanno bussato? prova a vedere no non sono io prova a vedere ok adesso usciamo quindi questo è il bagno ci sono due lavandini tutte le nostre cosine sono qua e poi qui c'è una doccia gigantesca gigantesca davvero la cosa più carina sono queste piccole piastrelle colorate guardate che bel colore che hanno sono meravigliose e e questo è quanto sostanzialmente questo era il tour della nostra casetta ieri ho caricato la prima metà della nostra giornata e oggi sto caricando la seconda metà della nostra giornata che per voi sarà di ieri se ha un senso quello che sto dicendo in questo momento siamo in palestra siamo venuti dalla nostra stanza in palestra questa è la musica della palestra e questa è la vista meravigliosa che c'è praticamente dalla palestra è stupendo è molto molto bello è molto più bella la palestra qua del resort in cui stavamo prima perché sta proprio sul mare e qui ci sono tutti gli attrezzi e tutte le varie cosine e anche molto più grande tra l'altro e quello che farò io adesso sarà cicletto e Tomasci invece farà pesi e i suoi soliti esercizi e ok let's go non so se si riesce a vedere siamo a quanto tempo scomparse la scritta del tempo comunque ho fatto quasi oltre 4 chilometri e mezzo ho brociato 200 calorie siamo più o meno su 20 minuti di ciclette e sto letteralmente sudando 7 camicie non sto scherzando io quando sudo mi vengono sempre le goccioline sui baffi abbiamo ancora 35 minuti ce la posso fare ok finita la ciclette e adesso andrò a fare un po' dei tapirulani faccio sempre camminata veloce non corso perché purtroppo adesso posso dirvelo siccome cioè perché vi ho parlato dei miei problemi riguardo all'osteoporosi eccetera e questo mi ha sempre causato anche vari problemi alla schiena quindi è una cosa che non posso fare è saltare e e questo comprende anche la corsa non posso correre perché la corsa è fatta di tanti piccoli salti e poi non riesco ad alzarmi letteralmente dal letto è un altro problema che non sono riuscito a sentirmi tra l'altro ma quando ero piccolina avete presente quei tappeti elastici che piacciono tanto ai bambini ecco io ci sono andata un giorno e poi non mi sono alzata dal letto per tre giorni avevo nove anni e da quel giorno sappiamo che purtroppo non posso saltare quindi facciuta pirulana camminata veloce iniziamo lenti e poi aumentiamo rigorosamente sempre in infradito ma anche questa volta l'hanno portato le scarpe da ginnastica perché sinceramente sto comoda in infradito alziamo ancora un po' ok e tra un po' la rendiamo ancora un po' più veloce siamo tornati dalla palestra sono veramente stanchissima ho fatto mezz'ora 40 minuti di ciclette poi altre mezz'ora di tapirulana e adesso sono anzi mi sto per mettere al montaggio del video vlog di oggi della prima metà della giornata di oggi e sono contenta spero che vi piacerà sono molto molto felice di tutte le cose che Benerfita ha organizzato in questi giorni e non vedo l'ora tra un po' andiamo a vedere i delfini eccoci siamo in marca stiamo per partire andiamo a vedere i delfini sono troppo felice sarà tipo la terza volta che vediamo i delfini in quanto? due settimane? in dieci giorni in dieci giorni? fantastico questa è la terza volta è la terza volta bellissimo siamo partiti siamo partiti ragazzi io ho anche il cappellino il mare è mosso sì il mare è mosso ma forse perché stamattina pioveva oh non lo so domani viene bel tempo speriamo dovrebbe esserci bel tempo ogni giorno fino a quando ripartiamo io mi sono portata ovviamente la borsa e voglio usarla più possibile e mi sono portata anche il cappellino che ci hanno regalato dal team di Benefit solo che mi sta mi vola perché mi è un pochino grande quindi vola via quindi devo tenere non si lo mettiamo in borsa siamo partiti che bello ragazzi che emozione spero che ce ne siano tanti come nell'altro resort speriamo siamo rientrati sulla terraferma siamo tornati questo è il moletto e in realtà però purtroppo non abbiamo visto i delfini questa volta no questa volta no noi li abbiamo già visti noi siamo fortunati due volte li abbiamo già visti in realtà noi li abbiamo visti il problema è che appunto qui nessuno li ha visti perché praticamente oggi non si sono presentati però secondo me i ragazzi dell'altro resort yes ready thank you però secondo me i ragazzi dell'altro resort erano un pochino più bravi a vederli secondo me è anche questione di tempo proprio metodologico sì hai ragione forse e forse anche soprattutto la sera magari non vengono tanti cioè non lo so la mattina era sempre pieno e poi è lo stesso tollo quindi non lo so quindi non li abbiamo visti che peccato che peccato ma forse domani torniamo a fare due giorni esatto noi siamo fortunati adesso torniamo in camera io devo finire il montaggio del video aspettare che si crei il file e poi posso caricare il vlog di oggi ma sono in tempo perché se qui sono le sette e mezza in Italia sono le due e mezza due e mezza sì due e mezza quindi io di solito carico i video cinque e mezza sei sei e mezza quindi sono abbastanza in tempo diciamo così incrociamo le dita che si riesca a caricare veloce il file come ieri e dopo di che andremo a cena ok ci siamo mi sono truccata in super velocità questo è l'outfit ho la boy bag top nero e poi questa gonna ampia però è mezza trasparente infatti un po' mi vergogno comunque il mio problema più grande qual è stato? è stato dimenticare ovvero sbagliare fondotinta perché invece di prendere il warm nude che sto usando in questo periodo che sono super abbronzata della Too Faced ho preso porcelain che è chiarissimo e lo uso praticamente in inverno in realtà è un pelino troppo scuro per me in inverno però quasi quindi che cosa ho fatto per rimediare ho steso un sacco un sacco di terra sul viso la hula che praticamente è della mia carnagione adesso che sono così abbronzata quindi più o meno credo di riuscire di essere riuscita a fare un match decente con il collo che cosa ne dite i capelli invece li ho lasciati non li ho lavati perché li ho lavati ieri sera mi seccava a rilavarli quindi li ho lasciati praticamente così un po' wild un po' crazy perché no visto che almeno al mare riesco ad avere un po' di volume decente li ho lasciati così poi volevo mettere rossetto rosso ma Tomas mi fa no metti quello nude e quindi ho messo quello nude adesso siamo in super ritardo abbiamo già chiamato la macchina e non vedo l'ora di andare a questo ristorante sarà fichissimo anzi adesso ah tra l'altro sono riuscita anche a caricare il vlog di oggi che andrà online oggi e che cosa sta succedendo non metto a fuoco ok sono riuscita anche a caricare il video che sarà online alle 9.30 ora di qua che in realtà sono le 10.30 ma il computer segnale 9.30 è un po' complicato però in Italia saranno le 5.30 sono super contenta e adesso è meglio che io avvisi la ragazza di Benefit Alessandra perdonami che siamo in ritardo anzi adesso ti scrivo e mi scuso speriamo di non essere gli unici in ritardo ecco ok stiamo entrando in questo ristorante oddio guarda oddio che tra l'altro qui c'è Giulia tutti mi state chiedendo se è con me ebbene sì che stiamo mamma mia se stiamo insieme sì ed è simpaticissima posso confermare che è simpaticissima è vero è volto la mano conferma anche io me lo sapete ciao ciao che mozione entrare in questa oddio guardate che roba guardate che roba veramente ci sono gli squali oddio ma può essere però no no però ma dove vai però assomiglia quello che veniva a trovarci ti ricordi nell'altro resort dobbiamo lasciare le scarpe qua sì oh thank you thank you I'm so excited I'm so excited adesso praticamente devi andare per prima perché se no le filmavo esatto oddio guarda mio dio c'è l'acqua mi ha fatto morire da ridere no no me l'aspettavo voglio wow poi saranno sti italiani che hanno fizzato oddio che meraviglia che meraviglia è bellissimo e sul tavolo abbiamo trovato tutti questi sticker questi adesivi carinissimi sono molto benefit ce l'ha ci l'ha wow thank you thank you oh drinks finalmente ok ragazzi questa è la prima portata è abbastanza buio qua dentro qui c'è pupetto mio è abbastanza buio qua dentro ma cercherò di farvi vedere perché questo questi sono tutti i piatti di uno chef stellato quindi merita sicuramente allora questa è una roba con i funghi non ho ben capito non la mangio per non mangi i funghi questo non ho ben capito cioè non mi ricordo questo è con aragosta io sono bravissima nella descrizione questo è aragosta e questo è ostrica con le uova quelle che si trovano anche al sushi insomma comunque ostrica fritta ok ragazzi questa è la seconda portata guardate la bellezza ah Tomas ha già spaziolato tutto tra l'altro bravo evidentemente era buono e allora abbiamo granchio questo è granchio fritto e questo è sorbetto il frutto della passione che si sta sciogliendo quindi direi iniziamo ok terza portata e questo non ho ben sentito che cosa mi ha detto credo sia tonno però è vero sembra una spiaggetta così vediamo com'è? com'è bubetto? non è male? vediamo ok ho perso il conto ma credo che sia la quarta portata e questo l'ho preso al posto del foie gras perché il foie gras non mi piace ed è disgustoso e quindi ho preso un carpaccio di verdure che dovrebbe essere di zucchine vediamo un po' questa sia la quinta portata non sono sicura e dovrebbe essere merluzzo e adesso non si sa assaggiamo e io nel frattempo sono al secondo cocktail e questo è uno strawberry daikiri credo che questa sia la sesta portata ed è aragosta con cream cheese cioè una specie di philadelphia sembra molto buono chiediamo al nostro test qua è buono sì Tomas dice sempre sì ok io mi sono slurpata il dolce in un nanosecondo quindi vi faccio vedere quello di Tomas che dietro consiglio di Andrea ha deciso di non mangiarlo perché Tomas dovete sapere è adepto molto fedele e il suo dietologo ormai è Andrea quindi mangiano le stesse identiche cose allora questo non ho ben capito che cos'era però era buono allora il gelato c'è il gelato che si è già sciolto poi panna poi marmellata poi tipo crostini non ho ben capito dolci e ananas che ho lasciato e basta crema è un po' di frutta molti vitamini con la frutta con un po' di gelato comunque è molto buono ragazzi la cena è finita è stata un'esperienza meravigliosa perché davvero in un ristorante così speciale non ci sono mai stata e ci sono rimasta davvero è stato emozionante poi tutti i pesci li guardavo vederlo per la maggior parte tonni sono bellissimi anche i tonni quindi no bellissimo stupendo stupendo e domani sono felice perché torniamo a vedere le tartarughe quindi spero anche di vedere le mante le mante vere non le razze che mi ero sbagliata e adesso siamo venuti al bar e noi ci prenderemo qualche cocktail Giulia mangerà qualcosina e guardate che meraviglia dietro di me c'è il mare c'è l'oceano indiano e questa piscina con tutte queste stelline che tra l'altro cambia colore non so se adesso riusciremo a vederlo però adesso è viola e dopo cambia diventa blu e poi gialla è stupenda e questo è proprio l'infinity pool avete presente la piscina che poi finisce ed inizia il mare è stupendo è bellissimo e ragazzi siamo tornati in camera è tardissimissimo quindi dobbiamo andare a dormire subito perché domani abbiamo la colazione e poi subito la gita con le tartarughe le mante che non vedo l'ora io vi mando la buonanotte Tomarsi si lavano i denti quindi vi mando la buonanotte con il pensiero quindi buonanotte e noi ci vediamo domani con un nuovo video tanti baci mia family ciao grazie